guarda lì nel divano Gigi si è messo proprio nell'angolo occhi a imbaltà guarda lì qua eh ti maialini ti maialini che non sono altro quanto mi date da fa' eh quanto mi date da fa' voi a me madonna mia madonna mia la mattina quando mi sveglio io la mattina ho trovato il portafoto di lì ribaltato con tutti i vetri guarda meno male che l'hanno mangiato è vero? tutti i tritini di vetri della foto rotta poi poi birbanti 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 mi è toccato lo vato a peti perché Gigi li mangia tutto Gigi eh come se è birbanti così Gigi eh come mai Gigi è birbanti guarda va come lo accarezza un pochino una carezza è poco e due sono troppe diglia lui ne vorrebbe una sola come ha incominciato a gliela un pochino di più si alza invece lei ci sarebbe tutto il giorno e allora come se la legga non te la tocco è la tua è la tua maialino maialino della mamma no no sta con me nel divano amore non è andata via maialino mio è il mio amore Gigi ma quando sei birbanti ma come mai c'ha questo carattere birbanti così come mai vita eh mannaggia però eh mannaggia mannaggia guarda come si rilazza la Clara guarda la Clara quante si ne fa fa si mette giù anche le londri mi fa il chiappone e si ne fa fa tutte lei tutto il giorno se sta qui a carezzarla ci sta tutto il giorno ma scalzoni eh però sei ma scalzoni perché la mamma ti vuole un buone che mi garbi da morire o come mai come mi fai sfogare vieni qui da me vieni qui birbanti che c'è proprio tremendo guarda come lascia aperta una porta che mi va a mangiare la gomma della guida è proprio birbante questo guarda è invece piccina ma niente è una signorina dicelo sono signorina seria sono signorina seria come mai bippanti quei twittino così scatta come mai eh dammi un bacino qua dammi un bacino guarda questo è vero da bacino guarda questo è lì non mi chichi sei il mi chichi sono i cittini questi sono i cittini qui sono i cittini qui sono i cittini